Friggere ciambelle al cinema? Far scoppiare popcorn? O preparare un bouquet di sushi? Guarda il nuovo video di WooHoo su come i ragazzi caldi e freddi introducono il cibo nel cinema! Benvenuti alla premiere dell'ultimo colossal! Caldo e freddo! Ed ecco le star! Sir Freddo e Mr. Caldo! Attenti paparazzi! Fa già abbastanza caldo anche senza di voi! Questo è il prezzo della fama! Ciao, ecco il mio biglietto! Perché ne hai uno solo? Siete in due! Quindi vi servono due biglietti! Che cosa? Questa guardia è così cattiva! Oh, i miei attori preferiti! Farò un selfie con loro! Ok, continuo a piangere! È così crudele! Mi ha chiesto un secondo biglietto! Anche se non ho un bambino nella pancia! Quella guardia è la peggiore! Un regalo speciale per le nostre star! Buon appetito! Grazie! Va bene, siamo pronti per entrare! Facci passare! Non potete entrare ragazzi! Mi spiace! Niente cibo nel mio cinema! Che cosa? In realtà siamo le star di questo film! Guarda! I nostri volti sono sul poster! No, non gli assomigliate! E adesso? Sapete cosa faccio con questo poster? Lo arrotolo! Ehi! Te la faremo vedere, guardia crudele! Ecco i nostri biglietti! Non abbiamo cibo! Bene, possiamo passare! Mister Caldo è riuscito a ingannare la guardia! Indossa l'impasto per ciambelle al posto dei gioielli! Ora possiamo friggere! Serviti! Mmm, ciambelle calde e fresche! Andare al cinema è dolce! I miei capelli stanno benissimo! C'è della pasta nascosta dentro! Devo solo cucinarla! Vai! Goditi il film! La guardia non se ne accorta! Mister Caldo sta già facendo bollire l'acqua! Così possiamo cucinare la nostra pasta! Mmm, la cena al cinema è così romantica! Ho una grande idea! Porterò il mio bicchiere! Ed ecco il mio biglietto! Cos'è questo? Allora? Un bicchiere? Solo un bicchiere vuoto! E se avessi bisogno di un cappellino? Fammi passare! E ora ecco che arriva la magia del film! Mamma pronto, mi senti? Sono al cinema! Puoi iniziare a passarmi il pranzo! Va bene ragazzino! Ecco del pollo! Passo e chiudo! Mister Caldo, questo è da parte di mia madre! Serviti! Pollo freddo! Mister Pollo lo arrostirà in pochi secondi! Mmm, non c'è niente di meglio della cucina di mamma! Mamma presto, passami dell'acqua! Certo! Oh, grazie! Sir Freddo, questo bouquet è per te! Sono la tua più grande fan! Oh, che delizioso bouquet! Sei una grande fiorista! Grazie! Ecco il mio biglietto! Tutto a posto! È un bouquet insolito! Vai pure! Ehi amico, vuoi del sushi? Ne ho un intero bouquet! Serviti! Ecco un'idea! Possiamo mascherare il cioccolato da premio Oscar e introdurlo di nascosto! Facci passare! Siamo i più grandi attori viventi del nostro tempo! Che cosa? Questo è un premio al cioccolato! Andate via! Ops! Non avremmo dovuto lasciare che Mister Caldo tenesse il premio al cioccolato! Si è sciolto! Questa è una vera statuetta! Facci passare! Ah sì, come no! Datemi il vostro premio al cioccolato! Subito! Ups! Il mio dente! Il vostro Oscar mi deve un'otturazione! Mister Caldo ha un'idea! Nascondi popcorn, tesoro! Ecco i nostri biglietti! Va bene, passate! E ora possiamo cucinare i nostri popcorn! Ti do un po' del mio calore! Pronta? Fa caldo! Ma i popcorn stanno scoppiando proprio nel cinema! Buon appetito! Spero che il nostro piano funzioni! Voglio davvero portare la pancetta di nascosto nel cinema! Non essere nervoso! Mmm, sento odore di carne! Cosa abbiamo qui? Popcorn! Ok, avanti! Ah, capisco! È il mio nuovo deodorante per abiti al profumo di carne! Ha funzionato! Ora posso friggere questa pancetta direttamente nel cinema! Fatto! Serviti! Popcorn al gusto di pancetta! Largo al miglior giocatore di hockey della città! Vediamo chi vincerà! Il disco Reo è pronto! Dai ragazzone! Impressionami! La guardia non è affatto male! Farà tutti i dischi! Ne ha persino preso uno con la bocca! È contro le regole! Questo è il mio gioco! Chi è il campione adesso? So come dare una lezione a quella guardia! Congelerò il mio chupa-chups! Cos'è questo? Un lecca-lecca? Il cibo non è consentito! Dammelo! Cosa? È ghiacciato! Eccezionale! Possiamo entrare tutti! Cosa c'è nel bicchiere? Solo della Coca-Cola? Boo! Va bene! Puoi andare! Boo! Questo film è così spaventoso! Ehi! Posso avere un ghiacciolo alla Coca? Va bene! Se è freddo, puoi aiutarci? Solo un paio di secondi dopo... Ed è pronto! Coca ghiacciata! Coca ghiacciata! Ecco a te! Cosa abbiamo qui? Ah! È il mio collo! Oh! Buona idea! Sei così cattivo! Lo dirò al mio medico! Oh! È un'ottima idea! Fammi passare! Non vedi che sto soffrendo! Oh! Guarda quel collarino! Fa male! Oh! Fa male! Ok! Vai! Vai! Ha funzionato! Vuoi un po' di shawarma? Grazie per l'ispirazione! Per favore, per favore, per favore! Possiamo entrare con il nostro cibo? No! Ok! È ora del piano B! Ci lasci passare con il cibo e la faremo recitare nel nostro prossimo film! Nel ruolo della guardia di sicurezza! Vuole firmare il contratto? Oh sì! Essere una famosa star del cinema è il mio sogno! Firmerò subito il contratto! Prossimamente nei cinema! Caldo e freddo 2! La vendetta della guardia! Cosa avete? Del cibo! Così va meglio! Ti sono piaciuti i nostri modi caldi e freddi per intrufolare il cibo nel cinema? Allora commenta qui sotto e dici come farai a portare il cibo oltre la guardia! Farai un bouquet di sushi? Un collarino shawarma? O dei popcorn crudi? E voi ragazzi, iscrivetevi al nostro canale! Mettete like a questo video e fate clic sulla campanella! Non perdetevi nessun nuovo esilarante video di WooHoo!